Come avete visto i dati confermano l'andamento positivo del turismo della nostra nazione, c'è tantissima voglia d'Italia, se pensate che solo nel mese di maggio le offerte in questo settore di lavoro sono state 119 mila, nel trimestre maggio-luglio sono circa di 400 mila posti di lavoro, l'occupazione come sapete in generale non è mai andata meglio rispetto a come sta andando adesso e soprattutto con contratti di lavoro a tempo indeterminato. Io credo che nel turismo ci sono tantissime possibilità di crescita, il governo ci crede, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha messo nell'agenda politica al centro il turismo, avete visto che ha partecipato anche per una crescita dell'1% del PIL, oltre a essere un comparto che pesa il 13% sul nostro prodotto interno all'erto.